La regione Marche investe oltre un milione di euro per i lavori di miglioramento sismico del Palazzo del Genio Civile a Pesaro, oggi la consegna dei lavori da parte dell'assessore Baldetti. A Sant'Orso di Fano nascerà una nuova scuola media, sarà pronta per l'anno scolastico 2024-2025. In attesa del duo Lopez-Solenghi di questo fine settimana, finanziati nuovi interventi di cura e manutenzione al Teatro della Fortuna. Nelle Marche avvio complicato per i saldi invernali ed incidere negativamente il maltempo dei giorni scorsi, ma soprattutto il caro spesa che ripone solo acquisti di capi utili. Parte il nostro viaggio alla scoperta dei 5 nuovi carri allegorici del Carnevale di Fano. Tra poco vedremo l'opera realizzata dal carrista Luca Vassinici. Stasera su Fano TV una nuova puntata di Guarda Chi C'è, ospite Elisa Ridolti, cantante e fanese di musica Fado. Tra poco nel telegiornale, l'ideatore del programma Nicola Zanni. Giovedì 11 gennaio, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Come avete sentito dal nostro sommario, a Pesaro il Palazzo del Genio Civile verrà riqualificato grazie all'investimento di oltre un milione di euro della Regione Marche. Oggi c'è stata la consegna dei lavori con l'assessore regionale Francesco Baldelli. C'era per noi Marco Lonigro. Nel piano Marche Infrastrutture 2032 è presente anche il Palazzo del Genio Civile di Pesaro. Questa mattina l'assessore regionale Francesco Baldelli ha incontrato gli organi di informazione in occasione della consegna dei lavori che riguarderanno il miglioramento sismico e non solo, di un edificio considerato strategico. Oltre 1,8 milioni di euro è l'investimento della Regione Marche per lavori che proseguiranno per 470 giorni. Oggi consegniamo i lavori invece per il Palazzo del Genio Civile. Un palazzo che aveva un indice di vulnerabilità sismico molto basso, quindi dobbiamo metterlo in sicurezza secondo i parametri di legge e un altro investimento da 1.800.000 euro per la grande attenzione che vuol mettere la Giunta regionale, l'assessorato alle infrastrutture per questo capoluogo che poi da quest'anno è capitale italiana della cultura. Pesaro non deve essere solo capitale italiana della cultura per il 2024 ma deve avere degli edifici sicuri a servizio del capoluogo e dell'intera provincia. Gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione di nuove pareti portanti al ripristino e riparazione delle travi ma anche al consolidamento della muratura già esistente. È un intervento che riporta una sicurezza sismica, quindi un miglioramento sismico di questo edificio che è un edificio strategico quindi importante anche per le sue funzioni proprio di Genio Civile che passerà da un indice di 0,1 quindi di protezione sismica molto basso e arriveremo a un livello superiore allo 0,6. Questo è un primo intervento, verrà poi fatta successivamente una riqualificazione energetica. Complessivamente la Regione Marche investe 3,6 milioni di euro per gli edifici strategici a Pesaro iniziati solo pochi mesi fa i lavori di riqualificazione sismica ed energetica della sala operativa integrata. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale affinché il Presidente e l'assessore competente rispondano in merito al disagio riscontrato da alcuni utenti che si sono recati all'ospedale di comunità di Fossombrone. Alcuni cittadini, ha spiegato la capogruppo Marta Ruggeri, avevano segnalato a mezzo stampa che durante le festività non vi erano medici né del 118, né della guardia medica, né del medico di cure intermedie creando un disservizio a chi si era recato nella struttura sanitaria. Occorre precisare, ha proseguito la consigliera, che con la gestione di turni deve essere garantita la presenza del medico del 118 e la presenza o della guardia medica nei giorni festivi o del medico a cap cure intermedie nei giorni feriali. Purtroppo però tutto ciò non è avvenuto. Pertanto, con la mia interrogazione, ho chiesto all'assessore competente quali misure intende adottare per evitare che l'incresciosa e preoccupante situazione si possa ripetere. Purtroppo, concluso Ruggeri, non è la prima volta che siamo costretti ad intervenire sui disservizi in ambito sanitario nella nostra provincia, solicitati spesso da tanti cittadini che si vedono privati del diritto alla salute. A Fano si arricchisce l'offerta scolastica con la realizzazione nel quartiere Sant'Orso di una nuova scuola media autorizzata, grazie al nuovo dimensionamento scolastico predisposto dalla Regione Marche e da un atto dell'ufficio scolastico regionale. Accolta la proposta inviata dall'assessore Samuele Mascarenna. Lo ha intervistato per noi Massimo Foghetti. Fano avrà una nuova scuola media. Assessore Mascarenna, che cosa significa questo per la nostra città? Un risultato storico che per l'appunto è il prodotto di un percorso che è iniziato nell'ottubre del 2022 con l'istituzione del tavolo permanente per il dimensionamento scolastico formato per l'appunto dal comune di Fano e da tutti i dirigenti scolastici della nostra città che ha prodotto una proposta che è stata poi trasformata in delibera di Consiglio Comunale lo scorso 25 settembre 2023 che alla fine ha trovato in gran parte una risposta positiva da parte della Regione Marche e poi anche una codificazione puntuale dell'ufficio scolastico regionale. Cosa prevede? Prevede una riorganizzazione dell'offerta educativa e quindi anche della dislocazione dei vari plessi scolastici della nostra città, il superamento di due circoli didattici che erano presenti nel nostro territorio, Corridoni-San Lazzaro e Sant'Orso, ma con una riorganizzazione che consente in realtà non solo di non perdere nessuna scuola ma addirittura di avere una nuova scuola media nella nostra città. Qual è la traduzione pratica? La traduzione è che ci saranno quattro istituti comprensivi, Padalino, Nuti, Gandiglio-San Lazzaro, che è quindi la fusione di Gandiglio e Corridoni-San Lazzaro per intenderci, e la trasformazione di Sant'Orso da circolo didattico in istituto comprensivo. Questo cosa vuol dire in particolare? Vuol dire che l'istituto comprensivo di Sant'Orso, che ovviamente riguarda le scuole che sono presenti sul territorio del quartiere di Sant'Orso, di Rosciano, di Bellocchi, di Falcineto, di Cucurano, di Carrara, avrà una nuova scuola media, che a partire da settembre 2024 sarà attiva con alcune sezioni all'interno dello stabile che oggi ospita la scuola primaria, la scuola elementare Montesi di Sant'Orso. Perché è un risultato storico? Perché sono vent'anni che a fa non si parla di collocare una scuola media nei quartieri più periferici della nostra città, ma sempre in una logica sostitutiva, cioè si è sempre ragionato di spostare una delle tre scuole medie storiche verso altri quartieri. Invece in questo caso il grande risultato è che restano ovviamente i tre istituti storici, quindi la scuola media Nuti, la scuola media Padalino, la scuola media Gandiglio, e se ne aggiunge una quarta, che sarà appunto quella di Sant'Orso-Bellocchi, dove peraltro c'è anche una programmazione urbanistica proprio per la costruzione di un nuovo immobile per ospitare la scuola media. Ovviamente questa è una prospettiva di medio periodo, la notizia importante è che tra pochi giorni, quando il 18 di gennaio apriranno le iscrizioni, a Fano ci sarà la possibilità di iscriversi per l'anno scolastico 24-25, non più a tre, ma a ben quattro scuole medie. E questo ovviamente è una bella notizia per tutta la città. E invece un intervento da 150 mila euro, quello finanziato dall'amministrazione comunale, per risanare il foyer del Teatro della Fortuna dai distacchi di intonaci causati dall'umidità. I lavori interesseranno anche il tetto da cui provengono le infiltrazioni, quel rimano dei palchi, ma il tutto, come ha precisato la Presidente della Fondazione Teatro, Katia Amati, verrà eseguito senza interrompere l'attività teatrale. Da domani infatti andrà in scena il nuovo spettacolo di Lopez e Solenghi. Il Teatro della Fortuna è uno dei teatri più belli delle Marche, ma ha bisogno di una manutenzione continua. Recentemente è stato oggetto di interventi per quanto riguarda l'efficientamento energetico, è stato chiuso durante l'estate, approfittando appunto della chiusura estiva, ma adesso si fanno ulteriori interventi, ma il teatro continuerà a essere aperto al pubblico. È vero, Katia Amati? Sì, il teatro è stato oggetto di questo lavoro di efficientamento energetico, è stato chiuso nei mesi estivi. Adesso interverremo con questa manutenzione straordinaria nella parte pittorica e vedrete nel foyer che riporteremo all'antica bellezza le parti pittoriche, il tetto che ha bisogno di essere controllato, perché immaginate questa parte più alta, questo palazzo è il più alto del centro storico, per cui quando tirano questi venti particolari, ci sono questi problemi proprio dei coppi oppure dell'infiltrazione d'acqua, e anche una rivisitazione alla sala interna per quanto riguarda soprattutto la parte dei parapetti, quello dove ci sono quei tubi di ottone che sono stati messi proprio alla riapertura del teatro. Ecco, però siamo contenti perché questi ultimi due anni il Comune di Fanno sta trovando diversi finanziamenti proprio per far sì che il teatro sia sempre al meglio. In particolare, signor Amati, il foyer non è un luogo di passaggio, ma è un luogo anche di intrattenimento, è un luogo anche decorato con belle pitture che purtroppo nel soffitto si sono deteriorate a causa della caduta del campanile durante l'ultima guerra. Ma in particolare, che cosa è emerso ultimamente e perché appunto occorre fare questi lavori? Sono negli ultimi quattro anni si sono manifestati dei fenomeni di umidità particolari dalla parte bassa verso l'alto. Il Comune anche in questo caso è intervenuto mettendo degli strumenti che invertono la polarità dell'acqua e i risultati li vediamo perché i muri si sono asciugati. Ed è proprio questo il motivo per cui oggi possiamo intervenire nelle parti ammalorate e riportare alle pitture che c'erano i trompolelli oppure la pittura del muro più semplice. Ecco, i lavori non interromperanno l'attività del teatro tant'è che venerdì ci sarà un altro bellissimo appuntamento della stagione di prosa. Venerdì, sabato e domenica avremo qui il 2 come vedete alle spalle Massimo Lopez e Tullio Solenghi in uno spettacolo in particolare perché ci sarà anche musica jazz che proprio è parte integrante dello spettacolo. È uno spettacolo che racconta da parte dei due attori il rapporto che hanno con il pubblico considerandolo proprio come dei familiari con i quali si sta assieme e si condivide in questo caso uno spettacolo teatrale nelle famiglie, i problemi di tutte le famiglie. E sabato pomeriggio i due attori incontreranno il pubblico alle 18 nella sala grande del teatro e con l'ingresso libero. Recentemente è stato fatto anche un consultivo in consiglio comunale per quanto riguarda l'attività teatrale un'attività che la soddisfa per il 2023. Sì, io sono contenta perché credo di parlare a nome anche di tutto il consiglio di amministrazione e tutti coloro che ci seguono perché c'è stata una grande ripresa. tra il 2022 e il 2023 abbiamo riconfermato gli abbonamenti che c'erano prima della pandemia, per cui con un più 51%, ma soprattutto un pubblico giovane che viene all'opera, viene alle parti di musica e per noi è un sintomo importante di questa crescita dal punto di vista sia culturale che musicale, ma proprio l'idea proprio che si torni a teatro. Chi viene a teatro in questo momento è abbastanza contento della stagione. Speriamo, insomma, anche negli spettacoli prossimi di trovare questo consenso che ci hanno manifestato fino adesso. E vi dobbiamo dare un aggiornamento perché dove eravamo rimasti lo spettacolo di Lopez e Solenghi previsto al Teatro Rossini di Civitanova Marche oggi e domani invece al Teatro della Fortuna non ha luogo a causa di sopraggiunta indisponibilità fisica di uno dei protagonisti. Appena possibile si legge in una nota saranno comunicati eventuali dettagli a riguardo. Andiamo avanti col giornale. Il Comune di Pesaro dà avvio a un importante intervento quello di Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio Rossini per consentire le operazioni. Da oggi, giovedì 11 gennaio, in piazza Olivieri è previsto l'allestimento del cantiere che comporterà un restringimento della stessa piazza del centro storico come previsto dall'ordinanza emanata. Per consentire l'installazione del ponteggio sul retro dell'edificio sarà chiuso dal traffico veicolare l'accesso e il transito e la sosta a via Giordani per chi proviene da via Zacconi. Il divieto, valido fino al 31 dicembre 2024 e previsto da un'apposita ordinanza, comporta per i residenti di via Sabatini, Zongo e Barignani l'accesso esclusivo da via Branca e via Almerici per raggiungere piazza Olivieri che rimane percorribile come le stesse vie. Non decollano per il momento i saldi invernali nelle Marche a commentare la difficile situazione alcuni commercianti e soprattutto il direttore di Confesercenti di Pesaro, Davide Paso. Sentiamo. Non decollano per il momento i saldi invernali nelle Marche forse i meno attesi degli ultimi anni. Umore scuro per i commercianti che rimasti con quasi la metà delle collezioni pesanti invendute per le tiepide temperature eccezionali di ottobre e novembre sono stati costretti ad anticipare i ribassi a dicembre durante il periodo natalizio. Il freddo, questi giorni la pioggia non ha giutato molto. Direi che è presto dire qualcosa però diciamo che è partito male insomma. Come sta andando? Ma guarda sono partiti da sabato diciamo che c'è abbastanza entusiasmo purtroppo il weekend ha piovuto quindi magari c'era meno fluenza in giro però comunque dai c'è ottimismo noi applichiamo anche degli sconti importanti dal 30% al 50% da presti già scontati e quindi direi abbastanza bene. Tra i commercianti non manca l'ottimismo ma inevitabilmente il primo bilancio sui saldi invernali è negativo. Ad analizzare questo inizio in salita è il direttore di Confesercenti Pesaro Davide Ipaso. Bilancio basso basso per tante difficoltà che si sono create. Prima di tutto abbiamo avuto un inverno che è iniziato tardi il mese di novembre l'abbiamo avuto con temperature estivo-autunnali quindi gli operatori non hanno praticamente venduto a prezzo pieno. Arriviamo a Natale quando la gente sa che il 5 di gennaio ci sono i saldi già chiede la scontistica se no dice non compro niente compro dopo l'inizio dei saldi l'operatore si trova a vendere a prezzi inferiori c'è il vendito promozionale il break friday e poi l'inizio dei saldi il 5 di gennaio che non ha assolutamente senso perché il saldo dovrebbe essere la vendita di fine stagione nasce e si crea il 5 gennaio dopo che il 21 dicembre inizia praticamente l'inverno. Un primo flop causato anche dal maltempo dei giorni scorsi ma soprattutto pesa la crisi dei bilanci familiari mutui a tasso variabile alle stelle e caro spesa che impone solo acquisti di capi utili. In più la crisi economica che sta attraversando il nostro paese che tutti strano sono zitti però io conosco famiglie che forse devono riconsegnare le proprie abitazioni perché il tasso variabile del proprio mutuo è arrivato alle stelle la gente ha tolto l'utile ha tolto il superfluo e compra solo l'utile di più cattive abitudini da parte dei clienti. Ad incidere negativamente sui saldi anche lo shopping online è confermata la cattiva abitudine degli ultimi anni con la clientela che prova capi di abbigliamento nei negozi fisici per poi acquistare sui siti di e-commerce. Se Amazon pagasse le tasse in Italia se Amazon pagasse l'IVA come la pagano gli operatori commerciali non ci sarebbe il problema online. Quanto incide lo shopping online? Ma incide però io credo che comunque lo shopping fisico nei centri storici ci sia e ci sarà sempre anche perché è un'esperienza che si dà nei confronti del consumatore che magari viene in negozio e quindi vive un'esperienza che magari online è un semplice click. I centri storici sempre più assediati da catene commerciali negozi in franchising e basare etnici anche a Fano come in altre città si registra da alcuni anni una lenta ma inesorabile perdita di identità e una trasformazione delle peculiarità e caratteristiche del centro. Di questo se ne parlerà lunedì 15 gennaio alle ore 18 durante un convegno intitolato Artigiani al centro organizzato dalla CNA di Pesero Rubino in collaborazione con l'assessorato alle attività economiche e turismo del comune di Fano sarà un momento di riflessione con un incontro pubblico che si terrà nella sala della Concordia nel quale si parlerà dell'importanza delle botteghe artigiane e del piccolo commercio a presidio dei centri storici nel corso dell'iniziativa saranno resi noti i dati ufficiali di uno studio condotto sul centro storico di Fano dal centro studi sistema della CNA delle Marche inizia questa sera e proseguirà per tutti i prossimi martedì e giovedì il viaggio all'interno dei capannoni dei carri del Carnevale di Fano dove il nostro inviato Filippo Pucci ci farà vedere e scoprire le opere allegoriche dell'edizione 2024 questa sera partiamo con il carro realizzato da Luca Vassilic Cari amici di Fano TV torna finalmente il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici 2024 del Carnevale di Fano che vedremo sfilare lungo Viale Gramsci il 28 gennaio 4 e 11 febbraio l'opera che andremo a vedere oggi è quella realizzata da Luca Vassilic dell'associazione Carnival Factory dal titolo Il Mangiasoli Il significato del Mangiasogni è in realtà una metafora una metafora della società odierna la società odierna che ci vuole tutti omologati produttivi freddi non pensanti la figura è rappresentata da uno sciamano una sorta di vecchio di vecchio spirito vuoto senza anima che si nutre appunto dei sogni delle ambizioni delle persone nella vita di tutti i giorni in contraposizione a questa figura comunque negativa e inquietante c'è l'altra faccia della medaglia c'è il sogno l'onirico tutto quello che la leggerezza d'animo quello che noi tutti i giorni magari sogniamo nel nostro piccolo di vivere quindi una vita senza problemi senza ansia angoscia e tutto quello che in qualche modo la vita e la società ci spinge ad avere insomma ecco quindi ci sarà questo scenario questa scenografia onirica appunto molti colori ci saranno tantissimi colori forme cose fantastiche sorprese ecco che poi vi sveleremo rappresentato ecco da elementi materialmente leggeri appunto c'è una farfalla c'è una mongolfiera c'è un occhio sognante che rappresentano la leggerezza d'animo la leggerezza dell'animo che tutti noi dovremmo riuscire a mettere più in evidenza e davanti a tutto quello che il resto appunto dicevo le ansie l'angoscia che la società quasi ci impone di avere a che punto siete con i lavori c'è ancora da fare l'uscita del 28 quest'anno e problemi che purtroppo abbiamo avuto i capannoni continuano ad avere non ci fermano ma ecco insomma c'è tanto da fare tireremo a chiudere il carro sicuramente nel migliore dei modi tutti i suoi dettagli il mangiassogni è quasi completa ma il carro richiede anche a livello tecnico un certo tipo di preparazione e sistemazione e in questo ancora dobbiamo lavorare siamo fiduciosi che il 28 saremo pronti vi aspettiamo al carnevale di Fano per la prima uscita del 28 gennaio e quella del 4 11 febbraio mi raccomando vi ricordo che lunedì sera primo cittadino tornerà al sindaco di Fano Massimo Sere che dalle ore 19 risponderà in diretta alle vostre domande come sempre potrete intervenire telefonando allo 07 21 86 14 33 oppure inviando un breve messaggio di testo su whatsapp al 338 49 68 250 e stasera dopo il telegiornale torna Guarda chi c'è uno dei programmi televisivi più longevi della regione Marche un format sicuramente vincente prodotto dall'agenzia Zari comunicazione do subito il benvenuto all'ideatore Nicola Zari ciao buonasera Simone buonasera a tutti i telespettatori Guarda chi c'è è tornato su Fano TV dopo circa tre anni di assenza lo scorso 2 novembre abbiamo mandato in onda la prima puntata della quindicesima edizione quale riscontro state avendo? Stiamo avendo un ottimo riscontro stiamo lavorando molto bene con la bravissima conduttrice Marina Del Bianco che ringrazio nuovamente per la sua disponibilità e bravura e collaborazione e vorrei ringraziare anche tutto lo staff che c'è dietro a questo progetto perché guarda chi c'è è televisione è Fano TV ma dietro c'è anche tutto il lavoro dell'agenzia che svolge quotidianamente aggiornando i social pubblicando le puntate su YouTube aggiornando Facebook e Instagram con i dietro le quinte con l'annunciare del personaggio quindi le foto con la cornicetta che sta avendo un po' una risonanza tipica locale simbolica e quindi diventa anche per il personaggio stesso un veicolo promozionale anche attraverso i propri social Chi sarà l'ospite di questa sera? Allora questa sera avremo la nota cantante Elisa Ridolfi e poi avremo anche diversi personaggi abbastanza conosciuti come il direttore di coro Damiano Fabri poi avremo ad esempio l'imprenditrice Antonella Capomaggi parleremo insieme al noto regista Andrea Lodovichetti che si sta occupando attualmente della realizzazione del docufilm sul carnevale di Fano e avremo ugualmente parleremo di sport con l'allenatore Enrico Battisti l'allenatore fanese campione d'Europa con la nazionale Under 18 parleremo anche del settore immobiliare con Claudio Bondanzini avremo tanti ospiti diversi settori sempre sul posto su Fano dedicato a Fano Quante altre puntate quindi andranno in onda? Siamo indicatamente a metà stagione quindi avremo 26 puntate quindi andremo in onda fino ad aprile quindi stiamo ancora selezionando ci arrivano diverse proposte e non ti nascondo che c'è un po' di difficoltà nel selezionare nel decidere chiedo a tutti ecco continuate a scriverci nel nostro indirizzo di posto elettronica info.izzare.comunicazione.it e cerchiamo di accontentare un po' tutti quindi tanti altri personaggi tante altre storie da raccontare noi vi lasciamo quindi alla nuova puntata di Guarda Chi C'è la quale seguirà uno speciale dedicato al volley della Befana dove tra l'altro noi giornalisti insieme a Davis siamo stati sconfitti dai politici che hanno vinto il quadrangolare logicamente che ha avuto lo scopo uno scopo principale che è quello della beneficenza grazie Nicola Azzari per essere stato con noi grazie a voi grazie anche a tutti i nostri telespettatori per averci seguito vi auguro una buona serata su Fano TV grazie a tutti i nostri